A me, fin da quando ero criatura, mi è sempre piaciuta stare sui terrazzi. Mi è sempre piaciuta guardare i cristiani che da adesso si parano a vedere piccinini, piccinini, come i formigli. I magni che parano a vedere tanti su qua ridi. E mi è sempre piaciuta sentire la dura dei panni stannuto solo. Mi ricordo che faceva a presa non-non a Sten e ci passevi in molletto. Da che si, siccome non gioceva molto buona a scuola, che avevo avuto bolletto due volte, una amica da Tana una volta mi ha detto Peppi, Peppi, lascia stare a scuola. Ma non lo faccio con me, che già gli parlate cattando. Ed faceva anche la vendazione delle guaine sui terrazzi. Ehi, appena gli ho sentito parlato di terrazzi. Prima e prima gli ho detto sì. E così ho passato tutta la vita a me adesso. E sono diventato veramente breve. Veramente esperto. Un vero maestro. Là da lì però... Mentre stavo fatto io su un capannone dalla zona industriale, no? Stavo a mettere una guaina... E non mi sono avvertito che gli ho fatto. Dopo a sondretto sono scuola e spettacchipita su San Lucernaio. Boom! 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 Bum! Muggera m'amò dice sempre Peppi! Peppi, tu mangiasse Peppi! Tu eras a mangiare più picca! E io gli ho rispondo che... E tu, guagna dama? Eh? Non già conoscete da chi si vuoi. Ah, vero te. E che su sei lucernaio... ...nei manchi iate potano camminare. Ah! Finalmente pausa! Qui non ci sono pause! Ma come? Era scritto nel contratto! Eh? A proposito, signor Padre Eterno... ...quanto tempo ancora mi rimane... ...per un contratto a tempo indeterminato? Un eternito! Sentite, ve lo dico per favore... ...non me ne mandate più! Oh! Eterno! 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 Con i pal homelos! Eterno! Eterno! Forse fai qualche variazione con i collegamenti. Scendo da un trattore. Ho visto questo problema. Il cappuccio della teuta arriva prima. Io avevo detto che volevo una M. I papaveri. Che sia l'ultima volta che lo posso vedere. Ah! Finalmente pausa. Qui non ci sono pause. Ma come? Era scritto nel contratto era scritto. A proposito signor Padre Eterno. Quanto tempo ancora mi rimane per un contratto a tempo indeterminato? Una perdita! Sentite. Ve lo dico per favore. Non me ne mandate più. Il floppio! Ufff! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti.